Omosessualità nelle civiltà classiche se ne parlerà il 17 maggio al Museo Archeologico Nazionale Gaio Clinio Mecenate, un'iniziativa organizzata in occasione della giornata internazionale contro l'homo bi-transfobia. Con due storiche del nostro territorio che sono la dottoressa Maria Gatto che è la direttrice del museo e la dottoressa Margherita Scalpellini che è etruscologa e quindi faremo una conversazione storica sul tema delle sessualità nel mondo antico e più specificatamente nelle civiltà a noi che ci hanno precedute, soprattutto quella etrusca, la greca, quella etrusca e quella romana. Perché avete fatto questa scelta? Ma è l'idea di capire come l'approccio al mondo omosessuale è cambiato nei secoli e quanto era così diverso dai problemi che ancora oggi riscontriamo nella nostra società. e quindi vorremmo in qualche modo allargare gli orizzonti e capire meglio queste dinamiche. È un incontro aperto alla cittadinanza? È un incontro aperto a tutta la cittadinanza, la quale speriamo partecipi numerosa. L'omofobia va scardinata anche nel mondo dello sport a sabato 18 maggio. Infatti si terrà l'evento tutti in campo in collaborazione con il comune di Civitella in Val di Chiana. Vogliamo abbattere gli stereotipi di genere nello sport, in questo caso nel calcio. Il comune di Civitella insieme all'Arciglia di Arezzo ha organizzato una partita di calcetto a 5 presso lo stadio della Alabadia con la squadra di calcio dell'Onfalos Perugia e il Borgo Rosso, una rappresentanza della Val di Chiana. Questo sarà alle 19 di sabato pomeriggio, alle 18 sarà presentato il libro di Francesca Muzzi appunto dedicato agli stereotipi gay nel mondo del calcio.